auguri famale benvenuti anche già c'è già e basta e c'è il muretto di Firenze qui anche già stanotte benvenuti i dati 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 a i dati i dati i dati i dati e i dati i dati i dati i dati a i dati a i dati a i dati a 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 Grazie a tutti. 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 Un saluto agli amici della Svizzera. Buonasera e benvenuti. Un saluto a Fabrizio Gola e ai PR del Tenas qui presenti stasera. Il Messia vi saluta e vi auguro una buona notte. Grazie a tutti. Un saluto a tutti. Allora adesso ragazzi, siccome è dall'anno scorso che non lo vedo fare, vi voglio vedere tutti sul muretto. E se non lo vedete sui muretto. Ho detto suoi muretto. tutti suoi muretto. tanto il prossimo anno lo fanno i muretto, tanto il prossimo anno lo fanno nuovo ragazzi, non ci sono problemi. Ehi Fabrizio Gola, guardali qua. questi sono i muretto, questi sono i muretto, sono i muretto, sono i muretto. del mondo e sono i muretto, sono i muretto, sono i muretto. ho detto che vi voglio vedere con le mani alzate con le mani alzate e vi voglio sentire di più di più alla faccia del Zanax e a tutte le discoteche di Firenze benvenuti a Firenze il Messia è con voi si va, si va si va, si va un saluto al principe di DJ il signore Andrew dell'inizio come state? come state? il Messia è sempre con voi vi voglio scatenati potete rompere tutto tanto che c'è nuovo il prossimo anno vi voglio vedere sentire Giuseppe Mignero vai vai Jacopo party time Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Ciao a tutti. 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 a tutti.